Allora, abbiamo qui Stefano Ferri, lo schiacciatore della MedStorm Macerata. Come vi state preparando, anzi come ci stiamo preparando per questa partita di domenica, gara 2 dei quarti di finale di A3 contro Lecce? Allora, secondo me stiamo preparando molto bene, c'è un sacco di entusiasmo, la squadra è molto carica e consapevole che possiamo chiudere questa serie già domenica, cosa che non sarà sicuramente facile, perché come abbiamo visto loro giocheranno sicuramente in casa meglio, come sono fatto dal terzo set in poi. Abbiamo potuto anche prepararla meglio questa gara 2, perché loro giustamente le ultime quattro partite dovevano giocare tutte contro Galatina e quindi il loro modo di giocare è un po' diverso. Adesso abbiamo i filmati e sappiamo un po' come possono giocarsela contro di noi e allora stiamo lavorando molto su quello e su che noi possiamo fare bene. Lorenzo Pasquali, centrae della Melstor. Dopo gara 1, come pensi che andiamo a affrontare gara 2 giù a Lecce? Il fattore casa influenzerà molto o la possiamo giocare bene anche là? Sicuramente gara 2 contro Lecce sarà una partita molto difficile, dato che loro hanno anche dimostrato di poter dare il meglio e di dare il meglio soprattutto nelle partite dove giocano punto a punto e devono giocarsi la qualificazione al turno successivo. Sicuramente per noi sarà molto difficile, dovremo esprimere il nostro miglior gioco e dobbiamo assolutamente cercare di vincere perché ormai arrivati a questo punto è l'unica cosa che conta.